Abbatte qualsiasi divisione accantonando ogni forma di campalinismo in nome del turismo. E' con questo spirito che nasce la prima guida turistica dell'Alta Valle del Nicone e della Val di Pierle, la prima situata in Umbria, la seconda in Toscana. Due realtà vicine tra loro, separate fin dai tempi dello Stato Pontificio e del Gran Ducato, ma che effettivamente costituiscono un unico agglomerato urbano. L'idea nasce da un gruppo di ragazzi, giovani e meno giovani, come ha detto poc'anzi la Presidente, è quella di avere un obiettivo comune che è quello di valorizzare il turismo nella nostra valle. Sono state fatte negli anni varie guide e anche altre tipologie di investimenti su questo ambito, ma questo è quello che forse più rappresenta il momento attuale che stiamo vivendo in questa valle, cioè quello di cercare di unificare vecchi dissapori e di puntare molto sul turismo e valorizzare le attività presenti nel territorio. L'opera è nata da un'idea del Comitato Insieme per la Valle, che riunisce numerosi giovani che risiedono nell'Umbra, Lisciano, Nicone e nella frazione cortonese di Mercatale. La guida è stata curata dal professor Marcello Silvestrini, già docente di didattica delle lingue moderne all'Università per stranieri di Perugia. Il Comitato nasce dall'esigenza di ragazzi di Mercatale e Lisciano di unirsi per avere uno scopo comune di tutelare il nostro ambiente e di promuoverlo a livello turistico. Noi abbiamo deciso di vivere qua, quindi vorremmo servizi e attività espresse al massimo. Oltre a rivelare le meraviglie nascoste, le tradizioni del patrimonio storico e culturale delle valli del Nicone e di quella di Pierle, la guida offre anche una panoramica dettagliata sugli agriturismi, negozi ed attività presenti nel territorio, rendendola una risorsa indispensabile per chi desidera vivere a pieno l'esperienza di queste due valli. Il lavoro che presentiamo è su due versanti, una parte ricompresa nelle guide dei comuni dell'Alta Valle del Teveri, questa invece è a parte squisitamente per l'Alta Valle del Nicone, che comprende una parte toscana e una parte umbra, perché noi conviviamo proprio in queste due realtà. Grazie a tutti.